Io la guido così sulla neve, si parte, seconda, terza, frenata dolce, ma decisa anche nella parte ingresso curva, via di traverso, prima, seconda di traverso e la macchina prende velocità con la trazione, ricordiamo che ha quattro ruote motrici per cui qui la trazione ci salva sempre molto, si scivola molto, non si sta in piedi ragazzi qua, frenata di traverso inizio curva, muso all'interno, giù Cassi in fondo. Muso all'interno, posteriore che scivola è giù di gas, ora tratto veloce, la trazione va gestita anche in accelerazione. Anche le cambiate devono essere fatte in maniera più dolce, la frenata e la scalata senza bloccare troppo le ruote. Eccolo qua col muso all'interno, questo chiude per cui ritardiamo. Senti il bloccaggio dei differenziali, che spettacolo. Guarda, siamo a 130. Peugeot 208 T16, io la guido così, sulla neve. Peugeot Senti il blocco